Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video super leggendario. Oggi siamo qui con Clash of Clans. Ah ragazzi avete visto lo sfondo di ieri? Dove quello era lo speciale? Il video di ieri era lo speciale 15 iscritti. Sì, era lo speciale 15 iscritti, quindi... E mio nonno, sapete cosa ha fatto? Si è talmente arrabbiato che ho consumato i suoi bicchieri di carta e il suo shampoo, che mi ha buttato tutto. Eh sì, avete capito bene, niente più regalo per gli iscritti. Meglio se li andiamo ad attaccare. Allora, andiamo con me, otto barbari? Eh, solo otto. Allora, tre barbari. Facciamo quattro barbari. Così... Così... Va bene dai, facciamo così. Intanto noi non abbiamo né elisir, ci serve elisir. I barbari loro staranno dicendo... Ma dov'è l'ultimo barbari? Facciamo noi l'ultimo. Possiamo attaccare con solo otto truppe? Nove. Io non credo. Ehi, quella circo è spiegata l'olio. Non penso sia una buona idea. ... ... A me servono le difese... io mi compro un altro cannone e lo mettiamo qua vicino all'accampamento anzi lo mettiamo qua perchè la torre degli arcieri non protegge tutto l'accampamento perfetto perchè a me non mi piacciono troppo le cose ammucchiate qua già è troppo ammucchiato allora intanto rimuoviamo sto fungo perchè mi ho costato tutto 250 anni di erisivo qui ragazzi devo togliere tutto da torno e devo ricostruire il castello del clan non si può scattare no mamma mia è quasi finito pure l'oro allora io intanto ho già attaccato tutto questo e sta corsa all'oro dei cavoli di goblin che odio sto odiando i goblin mentre su clash royale sto giocando un'altra volta con la capanna goblin ma me la devo togliere sti goblin non sono buoni a niente la uso pure parecchio ma sti goblin su clash of clans li odio perchè la corsa all'oro l'ho giocata già tre volte li ho attaccati alla corsa all'oro non riesco a distruggere niente hanno un sacco di cannoni intanto noi ne approfittiamo per addestrare sempre le truppe quando abbiamo l'elisir infatti prendo sempre sia l'oro che l'elisir intanto qua abbiamo un archivere e 130.000 barbari ok per fortuna che ho ancora lo scudo di protezione per due giorni e 22 ore se abbiamo l'elisir potremmo addestrare un altro barbaro si destra la banda del costruttore perché lì c'erano due tombe perché i goblin ci hanno attaccato beh sì io non ho nessun clan ma possiamo addestrare i bardi allora ragazzi oggi è la prima volta che gioco clash of climes quindi se non so niente quante truppe ci sono una di 10 perfetta e abbiamo una bellissima elisir 2 players 1 control qualcuno salviere un po' clara quindi ragazzi siamo in live siamo in live 2 players 1 control live e dice players 1 control non so se se erano di stepposferre voglio una figuraccia di allora io qua vorrei rimuovere sto facendo però non ce l'è lì più non ce l'è lì più nooo e dai uffa perché ho perso la connessione manutenzione in corso ma perché che sta scritto non riesco a leggere si toglie allora manutenzione in corso siamo sufficienti di servire fino a manutenzione di provare circa 20 minuti anche glass royale ok non lagga più ok non lagga più stavo laggando ok allora ragazzi voi non sapete che cosa è successo stamattina con flash e dove è? aspettate qui sta raga guardate che ho trovato di nuovo di nuovo è successo epica nel baule omaggio ma dai poi poi ho aperto un baule argentato e ho detto ma forse trovo la leggendaria se ho trovato la epica nel baule maggio la trovo la leggendaria esce nel baule e argentato e invece guardate io non ci credevo cioè sono rimasto sconvolto di nuovo che ho trovato la leggenda in questo baule perché mi ha dato 71 di oro 1 3 moschettieri 8 come si chiamano questi giganti royal e la epica cioè poi guardate qua questo è il baule quello la quando vinci delle carte del clan no mi ha dato 43 arcieri 46 frecce eh 19 valchirie vabbè perché ha fatto comune rara epica leggendaria no tutto in ordine comune comune rara epica e alla fine l'arciere magico poi raga qua il pecca questo è il baule quando perdi diciamo qua il pecca mi è uscito e poi questo è proprio il mio baule questo qua omaggio e quindi tutto a posto questa foto ragazzi è tipo un ricordo è un ricordo un ricordo poi raga ditemi se non è vero che questi bicchierini non so perché si vedono grandi non so perché si vedono grandi non so perché si vedono grandi ma sono bicchierini costano un euro cento pezzi un euro non so perché mio nonno si è arrabbiato così tanto mi ha buttato tutto in mezzo alla terra non so perché non so perché non so perché